Assessore, domani partiranno a vasto i giochi del mare, è una bella occasione tra sport e turismo? Non soltanto sport e turismo, ma giovani, scuole, inclusione e sanità. Un messaggio molto forte che la Regione vuole lanciare con un grande evento. La Regione Abruzzo ha ritenuto opportuno credere nei grandi eventi, sin dal momento Covid, quando organizzare grandi eventi non ha fatto scontato, altre Regioni hanno rinunciato legittimamente a organizzare grandi eventi. L'Abruzzo si sta contraddistinguendo nell'organizzazione di grandi eventi, credendo appunto nella ricaduta socio-economica sui territori, oltre che nel messaggio sportivo. Saranno cinque giornate importantissime, ripeto, non soltanto per il messaggio sportivo e per la ricaduta su tutto il comprensorio, ma ci saranno messaggi importanti di inclusione perché sarà il coinvolgimento del mondo paralimpico, ci sarà il coinvolgimento nelle ultime due giornate delle scuole perché il messaggio arrivi forte ai nostri giovani e quindi il messaggio sportivo di vita e di ritorno alla vita deve passare fortemente attraverso lo sport, è questo in cui crediamo. E poi in ultimo anche le giornate di screening cardiologico perché lo sport deve andare di pari passo con una sanità del corpo. È questo in cui stiamo credendo e quello che stiamo promuovendo attraverso un grande evento che abbia tanti messaggi positivi.